E' già operativo a Chieti il primo centro per uomini autori di violenza, un progetto voluto dall'amministrazione comunale assessorato pari opportunità in sinergia con quello alle politiche sociali ed elaborato dal consultorio della cooperativa Alfa. Si chiama Metamorfosi ed è stato finanziato con i fondi del bando preisposto dalla Regione Abruzzo in sinergia con il Ministero per le pari opportunità. Il servizio QOV Metamorfosi è appunto un servizio che si occupa degli uomini ma tutela delle donne e dei bambini e quindi di contasto alla violenza domestica e alla violenza assistita. Il progetto prevede appunto un'equip strutturata da psicologi, psicoterapeuti ed educatori e ha un programma definito attraverso cui gli uomini vengono in qualche modo aiutati ad assumere delle condotte non più violenti e quindi a modificare le loro condotte. Questo si fa attraverso dei colloqui individuali e poi successivamente attraverso un lavoro che viene fatto di gruppo con tutti gli uomini autori di violenza e che appunto affrontano questi cambiamenti seguiti passo passo dall'equip. Il centro lavora sulla difficoltà degli uomini ad accettare la frustrazione, a gestire la rabbia e a non usare la violenza nelle relazioni intime e lo fa con un percorso di 18 mesi accogliendo uomini che arrivano a seguito di un procedimento giudiziario o un affidamento dei servizi sociali oppure che volontariamente si affidano, aggiunto ancora Maria Laura Di Loreto, coordinatrice del centro antiviolenze responsabile della cooperativa Alfa. Questo progetto nasce dalla volontà della cooperativa perché lavorando da 8 anni sulle donne abbiamo avvertito l'esigenza di farlo anche sugli uomini. E ci siamo accorti che il problema della violenza sulle donne è di fatto degli uomini. Questo ci ha permesso di lavorare con davvero molta intensità per arrivare al riconoscimento di questo servizio che si chiama CUAV e che è rivolto prettamente agli uomini che agiscono violenza, che non sanno gestire la rabbia e che hanno spesso dei comportamenti aggressivi anche in situazioni assolutamente non giustificabili. Questo progetto. Questo progetto. Questo progetto.